La situazione di caos in cui versano i centri per l'impiego molisani non tende a risolversi. Situazione più volte denunciata anche dagli esponenti politici locali. Dagli uffici di Sernia giunge l'ennesimo disservizio. Da settimane hanno i sistemi informatici in panne, tanto da bloccare tutte le procedure di selezione con evidenti disservizi per l'utenza. In particolare si segnala un bando per una graduatoria di 10 unità, a tempo pieno e indeterminato, nel ruolo di operatori dei vigili del fuoco, la cui scadenza era fissata per il giorno 8 settembre. Ma dal 5 settembre i server del centro per l'impiego di Sernia sono andati in tilt. Mancata possibilità dunque per gli aspiranti di partecipare alla selezione, che al momento resta comunque bloccata. Nessuna proroga al bando, ma anche nessun intervento risolutivo messo in atto dai responsabili del centro. Ad oggi nulla ancora si muove. Per ottenere certificati, storici, anagrafiche e quant'altro, bisognerà inviare una mail alla casella certificazioni.is-moliselavoro.it allegando un documento di identità. Ma con tutte le procedure di selezione bloccate, il sistema informatico paralizzato, gli impiegati del centro abbandonati a se stessi e la politica assente.